Benvenuti a questo nuovo video. La nostra nazionale di calcio si gioca tutto in pochi giorni. Si gioca la possibilità di andare al mondiale di questo inverno in Qatar e per farlo deve assolutamente vincere due gare. La prima contro la Macedonia del Nord e la seconda contro la vincente di Turchia-Portogallo. Ma andiamo con ordine. Italia-Macedonia del Nord si giocherà a Palermo, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Uno stadio che vedrà il tutto esaurito, uno stadio che sarà pieno di tifosi italiani. Roberto Mancini ha convocato 33 uomini, non un numero a caso per chi è religioso, un numero molto importante. L'Italia dovrà fare meno della sua stella principale Federico Chiesa che diversi mesi fa ha subito un grave infortunio. Ciò nonostante Roberto Mancini dal primo minuto dovrebbe confermare in blocco diversi campioni d'Europa in carica. Dall'altra parte la Macedonia del Nord non è una corazzata, è una squadra frizzantina, una squadra che non si chiude in difesa diciamo pure, che ha nel suo fulcro principale del suo gioco Elmas, stella del Napoli. Dall'altra parte, sempre per la Macedonia del Nord mancherà il più grande calciatore macedone di tutti i tempi, Goran Pandev, che diversi mesi fa ha annunciato il ritiro dalla Nazionale. Una Macedonia che è arrivata ai play-off grazie al secondo posto nel girone di qualificazione dietro la Germania. Una Germania che la Macedonia ha battuto due a uno proprio in Germania e poi a ritorno ne ha prese quattro, quattro sperle. Insomma una squadra altalenante. Bisogna avere paure della Macedonia? Assolutamente no, è una squadra che non ha mai giocato un mondiale, non è mai arrivata così vicina ad un mondiale, si gioca un play-off mondiale. Ha giocato un europeo, quello che noi abbiamo vinto, l'Euro 2020, ha giocato un europeo solamente le tre partite del girone e le ha perse praticamente tutte. L'Italia è favorita, in primis perché l'Italia, per la sua storia, per gli uomini in campo e perché è campione d'Europa in carica e ovviamente anche perché si giocherà in Italia con uno stadio pieno di tifosi italiani. Il mio pronostico è assolutamente a favore dell'Italia, un'Italia che sicuramente riuscirà a trovare diversi spazi durante la gara, credo che i vari Insigne, Immobile e Zaniolo riusciranno ad arrivare in porta molto frequentemente e quindi vedo un'Italia favorita ma anche pronta a fare diversi gol. Staremo a vedere, è il primo passo verso il Qatar. Andiamo, azzurri.